buongiorno oggi cioè domani saremo a 2405 metri di altitudine per un video speciale quindi seguite il canale iscrivetevi e ciao gente eccoci qui siamo arrivati in montagna e questo è l'itinerario che faremo domani dove ci inerpicheremo verso la retta intanto questo è l'appartamento vedete scale altri appartamenti e roba varia sfortunatamente è appena saltata la luce quindi adesso cercheremo di risolverlo buona mattinata vedete giornata magnifica io ho già il fiatone montagne sole come la previsione comunque sia mie che dei siti oggi sarà una bellissima giornata il sole e caldo intanto siamo qui ad aspettare la partenza ed ecco che si fanno le prime nubi inizio del cammino siamo a 1200 metri camminiamo da circa mezz'ora e questo è il sentiero l'ala vetta bosco vetta vista da 1350 metri qualcosa panorama da 1550 metri preciso l'ultimo altre cime panorama da 1650 metri vette parzialmente innevate nuvole bellissimo panorama davvero magnifico la una retta buongiorno sapete dove sono non proprio sul costa rossa ma sul monte pittè montagna bellissima siamo a più di 2000 metri di quota 2020 2050 uno dei miei primi 2000 metri vedete la vetta principale la non importa importante essere arrivati qua che questa è comunque una vetta ed è una cosa importante non ce l'ho fatta non ce la faccio fisicamente sul costa rossa ma va bene qua qualche nivaio poi di qua vabbè ce ne sono tanti quasi ghiacciai nubi 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 si vedrebbe il buon viso se non fosse nuvoloso ma amen e lì il costa rossa siamo qui sul pittè ma la cosa brutta è che devo tornare laggiù e sono più di 4 chilometri in mezzo prendi la valpa diversa però picciata perché siamo noi e la poniamo lì non c'è l'ho fatta I never wanna look at a house in the garden I never wanna lock you down I know you're not mine, it's just my turn But we can still have fun for now You told me you don't really do commitment, trust me Consider your message received When you said you couldn't take us too seriously I must admit I was relieved Cause I never wanna play happy families with you But I like having you around I'm fully aware this is a flash in the pen But we can still have fun for now Ma siete ancora lì? Bene, aspettate e vi ricordo di iscrivervi al canale E di seguire un nuovissimo video che uscirà domani Bellissimo, una recensione dei treni dopo il coronavirus Ciao